Torna in questo fine settimana a Loreto a Prutino dal 24 al 26 agosto sbicchierando nel borgo la manifestazione che ricorda l'amico e collega Antonio Recanati a cura dell'associazione APS Onero che ha caparbiamente voluto questa terza edizione nonostante i limiti e i paletti imposti dal decreto Gabrielli in tema di organizzazione di eventi. Sarà ancora il suggestivo centro storico loretese a fare da scenario all'evento. Come sempre contraddistinto da tanti momenti significativi, intanto la cerimonia di consegna del premio giornalistico Antonio Recanati che si terrà domani. In questa edizione la giuria presieduta dalla giornalista Franco Farias ha assegnato i riconoscimenti a Daniela Senepa del TGR Abruzzo per la sezione cronaca, a Luciano Di Tizio per la sezione ambiente e agricoltura, ad Enrico Gian Cristoforo di Telemax per la sezione sport, prima la carriera per Renato Minore, giornalista Rai e attualmente critico del messaggero. Un riconoscimento in collaborazione con il CAI di Loreto a Prutino per ricordare anche il socio fondatore Nevio Nobilio andrà a Fabio Pellegrini, uno dei primi ad arrivare all'hotel Rigopiano dopo la valanga. Previste esibizioni musicali nelle tre serate, venerdì con il True Love, la tribute band dedicata a Stevie Wonder, sabato la cover band Fabiano & Co, domenica il dream pop di una band tutta loretese, il lullaby Luders e poi la chiusura affidata ad un DJ set con repertorio anni 80-90. Ovviamente il piatto forte della tre giorni sarà l'apertura di stand gastronomici e la possibilità di degustare vini di alcune delle migliori cantine abruzzesi che hanno voluto essere partner di Sbicchierando nel Borgo, che riassume un po' quello che era Antonio. Grande attaccamento al suo paese e alle tradizioni locali, la possibilità di passare una bella serata tra amici, tra chiacchiere, risate e il tutto degustando o appunto sbicchierando quel buon vino abruzzese, una delle sue principali passioni che tante volte ha raccontato nei suoi servizi.